Benvenuto o benvenute in questa mini serie di pillole d'inglese con Mattia e Niffa. Oggi rispondiamo a una domanda importantissima, ovvero perché non devi studiare l'inglese? Quindi questo magari è uno shock per alcuni di voi. La risposta è molto semplice perché l'inglese non è una materia scolastica. L'inglese è una lingua, quindi se tu la vuoi imparare devi trattarla come tale. E non c'è un modo logico o un modo che si possa calcolare per imparare una lingua. Non è come la storia o la geografia che tu ti impari le date, ti impari gli avvenimenti storici, fai una verifica a crocette e allora tu sai bene tutto. No, l'inglese è una lingua, devi assorbirla, devi fare in modo che diventi parte di te. Devi emergerti dentro per impararla. Quindi questo è il sistema, non è attraverso la grammatica. Studiare l'inglese attraverso la grammatica non funziona perché diventerai bravo nella grammatica, ma poi nella pratica sarai sempre incapace. Questa è la grande verità. Noi invece facciamo l'opposto. Noi ci facciamo diventare capace in inglese nella pratica, però lasciando un po' da parte quella che la grammatica ti crea solamente confusione. Assolutamente. Sì, sì, ovviamente. E poi è successo a me in primo momento. Sì, e sicuramente a molti di voi anche. Non è la prima volta che ci è successo. Assolutamente. Scrivelo anche tu nei commenti. Magari pensa se non hai vissuto le stesse esperienze. Che a scuola eri lì a studiare, a fatti chiare i suoi libri e poi ancora non avevi nessun tipo di risultato pratico. Nonostante magari avessi un certificato, nonostante magari alle verifiche prendevi 8, prendevi 10, prendevi anche la sufficienza. Ma quello che conta è la pratica. Quindi noi ti spediamo, ti insegniamo solamente la pratica. Molto importante, abbiamo lanciato una nuova Accademia di Apprendimento Rapido dell'Inglese. Qui sotto puoi trovare il link. Abbiamo deciso di aprire solamente un numero limitato di persone, che sono 20 persone al mese. Potranno fare l'iscrizione. Adesso sono rimasti gli ultimi posti rimasti. Quindi se sei interessato puoi cliccare sul link qui sotto al video e ti separerà un'offerta per accedere alla nostra Accademia di Apprendimento Rapido dell'Inglese.